Sicuramente è un argomento ancora aperto ma va trattato singolarmente, sono due aspetti diversi. Una cosa è il campo e noi per il campo ci siamo affidati all'allenatore Alessio Pala in cui abbiamo piena fiducia e una cosa è l'ambito giudiziario in cui la procura federale farà il soccorso e andremo a vedere come finirà. Noi siamo sicuri della nostra posizione perché non abbiamo mai avuto nulla da nascondere, non l'abbiamo tuttora, per cui procediamo e vogliamo far calcio, non vogliamo avere fronzoli o pensare a vicende extracalcistiche. Purtroppo siamo stati tra virgolette tirati in ballo in situazioni poco positive, contiamo che si chiudano al più presto, e sicuramente non andremo a far la caccia alle streghe per salvarci sulla pelle degli altri. C'è ancora tutto aperto, il campionato è dura, però direi che le premesse che hanno fatto il direttore sportivo e allenatore sono perfette. Ci sono i margini, magari non per una salvezza diretta, però noi puntiamo sempre a dare il nostro meglio e lo faremo anche in queste circostanze.